Salve, lei è un consulente esterno della regione? Molto esterno, come vede. Però lei è un consulente, no? È la mia occupazione. Che sarebbe? Quella che vede, occupo. D'accordo, ma come esercita la sua consulenza? Consiglio la sede a più opportuna. Ne ha qualcuna preferita? Direi di no, posso occuparmi di ciascuna con la medesima perizia. Capisco, la ringrazio. Si figuri. Eliminando privilegi e sprechi, si potrebbero risparmiare 50 milioni di euro l'anno senza tagliare altro. Firma anche tu per ridurre i costi della politica Regione Lazio. Comitato Nene, né privilegi né sprechi.